Cari amiche e cari amici, articolo di Francesco Lamedola, la condizione indispensabile è ritrovare il centro. In questa fase storica così difficile e drammatica si avverte in molti una sorta dismania e impazienza di fare qualcosa, di entrare in azione per opporsi con tutte le loro forze alla catastrofe che incombe su di noi e che ormai si profila con molta chiarezza. Parecchie persone si rendono conto che è in atto un assalto condotto simultaneamente su più fronti che ora si mostra apertamente per quello che è, un tentativo di sovvertire definitivamente la famiglia naturale, lo stato sorrano, la fede dei padri, il lavoro, il risparmio, le certezze, lo stesso principio di verità, così da instaurare il regno del relativismo deleterio e del soggettivismo nichilista. E' arrivato il momento di opporsi, con maggiore decisione a questa manovra, perché diversamente sarà troppo tardi e le possibilità di ripristinare un ordine naturale delle cose saranno probabilmente ridotte a zero. Già ora abbiamo visto che siamo stati partecipi di cose che non avremmo mai immaginato né creduto possibili, non almeno con questa stupefacente rapidità e facilità, una falsa pandemia fatta scoppiare ad arte per costringere la popolazione a vaccinarsi, un intero popolo paralizzato, la scuola sospesa, il turismo pressoché distrutto e la religione colpita al cuore. Nel frattempo, il Presidente della Repubblica, che non si era quasi visto per due mesi buoni, uscire fuori il 17 maggio per ricordarci l'importanza della giornata mondiale contro l'omofobia, la transfobia, la bifobia. E il sedicente Papa Bergoglio, anche lui eclissatosi per un paio di mesi, tranne una grottesca, solitaria, seduta, notturna in piazza San Pietro, che come al suo solito continua a intonare intollerabili mantra di migranti e dell'ambiente. E il Parlamento non ha saputo far nulla di buono per tutto questo tempo, neanche avvianare la riforma della legge elettorale, che invece di occuparsi della povertà e dell'azienda defallite, si preoccupa di la legge che punirà, come un reato penalmente rilevante, qualsiasi mancanza di rispetto nei confronti degli omosessuali. Fosse pure uno sguardo poco amichevole, o un'inflessione sprezzante nel tono della voce, indizio sicuro di odio, un odio di genere, un'ingiusta discriminazione. C'è qualcosa di commovente in questo desiderio di reagire, di fare qualcosa per fermare le forze malefiche che si sono scatenate contro la società. Tuttavia non è sufficiente la giusta indignazione per trasformare le persone che fino all'altro ieri non si erano neanche accorte che qualcosa non stava girando verso il punto giusto. in guerrieri pronti ad affrontare la battaglia decisiva. Perché? Guerrieri? Non ci si improvvisa. Non ci si improvvisa dall'oggi al domani, specialmente se la propria consapevolezza si è appena ridestata. Però bisogna avere ben chiaro una cosa, che l'attacco che stiamo subendo non è solo di natura finanziaria, economica, politica e così via, che non è condotto da forze puramente umane in un'ottica puramente umana, che vi è in esso una dimensione infernale, una regia diabolica e che quindi per fronteggiarlo in maniera adeguata è necessario sviluppare prima di tutto una chiara coscienza spirituale. Pertanto, le armi più importanti che ci accingiamo ad impugnare sono, in primissimo luogo, le armi spirituali, raccoglimento, penitenza, preghiera, lode, supplica e domandare a Dio che fermi e distrugga i disegni dei malvaggi, ovviamente punendo questi ultimi. E non basta pregare così, come capita, quando capita, per essere efficace la preghiera deve scaturire da una coscienza limpida, trasparente, e la trasparenza viene dal fatto di essere ben centrati nella propria essenza, ciò significa disporre di un'armatura solida, compatta, senza inclinature, punti deboli, che il nemico non riuscirà a scalfire, perché il nemico, ricordiamocelo bene, è animato, se si preferisce, è posseduto da forze spirituali oscure, e prima di colpire fisicamente cercherà di farlo spiritualmente, individuando il nostro punto debole, suggestionandoci aggirando le nostre difese mediante la seduzione, in modo da trascinarci nella dimensione bassamente emozionale, egoica, dove il disordine e la sfrenatezza suscitate in noi saranno i suoi migliori alleati. Quante poderose fortezze sono cadute sotto i suoi attacchi sferrati con le armi della seduzione, dell'inganno, dell'invito al disordine morale, perché si tratta di un nemico subdolo, astuto, oltre che perfido, solo davanti a una ferma resistenza è costretto a venire allo scoperto, rivelando la sua natura demoniaca. Ma quando si trova alle prese con nature deboli, con personalità non centrate, facilmente suggestionabili o a sue fatte alla dissolutezza, riesce a ridurle in suo potere con estrema facilità, semplicemente lusingandole e facendo leva sulle loro stesse debolezze, per questo si presenta sotto apparenze piacevoli, facili e accattivanti. Soprattutto vuole impedire che le sue prede si rendano conto di quanto sarebbe valida e pronta la loro difesa se ricorressero a colui che non lascia mai sole le anime in balia del male, secondo la sua promessa. Ed ecco perché opera con sottile malizia per staccare le anime della preghiera dalla familiarità con Dio, per seminare in esse dei dubbi e incoraggiarle nella pigrizia sfuggendo alla preghiera, perché la preghiera, secondo questa voce negativa, può essere rimandata. Le cose in questo mondo, dopo tutto, devono avere la precedenza, perché da esse dipende la nostra vita. C'è un altro aspetto che merita di essere sottolineato. Quando si dice che occorre essere ben centrati in se stessi per affrontare il combattimento spirituale, non si intende dire né che bisogna rafforzare l'ego, né che l'anima può fare da sola. Essere ben centrati significa, contemporaneamente, essere uniti saldamente a Dio, perché al centro dell'uomo c'è Dio e essere uniti a Lui significa anche essere al centro di se stessi. Non è l'ego che sta al centro della nostra persona, ma Dio. E se non vi è, perché noi abbiamo trascurato questa consapevolezza e saremo comunque decentrati quando anche dedicassimo gran parte delle nostre giornate a compiere esercizi fisici, mentali, per rafforzare la nostra consapevolezza. Non vi è alcuna consapevolezza che non parta dal nostro bisogno di Dio e non ritorni a Lui. Senza di Lui tutto è confuso, ingannevole e si può solo costruire un edificio di certezze illusoriche e clorleranno come un castello di carte al primo soffio di vento. Inoltre, bisogna aver chiaro che il combattimento spirituale non è l'eccezione che si presenta di quando in quando nella nostra vita. La verità è che il combattimento spirituale è la regola, non l'eccezione. Esso dura per tutto il tempo della nostra vita e che se a tratti può essere silenzioso, quasi mascherato e che dobbiamo essere sempre pronti perché non sappiamo quando verrà l'attacco né da quale direzione, per cui non possiamo permetterci di allentare la vigilanza neanche per un solo istante. Pertanto, bisogna essere guerrieri sempre e non solo quando la campana batte a martello. Il guerriero è una figura spirituale che non ha un preciso limite cronologico come può avere lo servizio militare di leva. Il guerriero non smette mai di essere guerriero. Da quel che abbiamo detto, si sarà compreso che quando parliamo del combattimento spirituale diamo per certo che dietro qualsiasi nemico il quale attenti alla nostra integrità, alla nostra trasparenza, alla nostra saldezza interiore, alla nostra intima unione con Dio, c'è alla fine l'ultimo nemico, quello vero, quello che possiede le risorse più grandi e che può incutere il maggior spavento. Se ci si ferma la dimensione immanente e apparente, si può pensare che il nemico che sta lanciando il suo grande assalto globale contro l'intera società sia di natura umana e abbia il volto a volte di un finanziere o di un politico o di un grande speculatore e così via. Ma tutte queste sono solamente maschere che indossa per farci credere che l'attacco abbia di mira solo il nostro conto in banca, i diritti civili, la nostra libertà di sottoporci o no a cure metiche, vaccini e così via. Mentre la verità è che l'attacco admira il cuore del nostro essere, la nostra anima. E' la nostra anima, della quale il nemico è bramoso di impadronirsi, simile a un leone ruggente, che va in cerca di divorare, perché il suo grande avversario non è l'uomo, è Dio, perché alla fine il vero nemico è uno solo, il principe di questo mondo. Possiamo intravedere il suo ghigno infernale dietro il volto di coloro dei quali si serve e che di fatto sono già divenuti i suoi schiavi, per seminare sofferenza e turbamento a piene mani, in quest'ora così drammatica nella storia. E' dietro il volto del politico, il quale, per compiacere i potenti della finanza, imporre provvedimenti inutilmente dolorosi, costringe milioni di persone nella tristezza, nella solitudine, nell'angoscia, oltre che nella povertà materiale. E' dietro il volto del primario di ospedale, il quale, con crudeltà insensata, proibisce ai familiari di dare l'estremo saluto ai loro cari e poi fa gettare quei poveri corpi in un sacco di plastica, dopo averli fatti disinfettare come se fossero carogni di animali, per avviarli alla cremazione, senza servizio funebre, senza aver chiesto il consenso ad alcuno. E' dietro il volto del miraddario, il quale spadroneggia nelle multinazionali farmaceutiche fa sperimentare e brevettare dei vaccini diabolici, fabbricati anche con feti umani, e poi si arricchisce ulteriormente vendendoli ai governi, i quali a loro volta li imporranno ai cittadini. E' anche il volto del falso papa, dei falsi cardinali, vescovi, preti, i quali, profittando di un così grande smarrimento, piantano un albero satanico, un albero di un idolo sanguinario nei giardini vaticani, bestemmiando contro la Santissima Trinità, contro Gesù Cristo, e celebrando perfino messe nere all'interno delle chiese, il tutto nel quadro di un antico e vasto raggio da parte della massoneria ecclesiastica. teniamoli a mente quei volti, perché verrà il tempo di fare giustizia per tali scelleratezze, ma non confondiamoli con il vero nemico, no, preghiamo, confidiamo in Dio, Lui ci darà le armi per difenderci, per vincere la battaglia e farti non fare la sua santa volontà. bene, se ritieni i miei video utili, lascia un'offerta per il canale, troverai le informazioni subito sotto al video nell'info box, un pollice su per il mio lavoro, sempre incollati al decimo d'oro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.